Si terrà domani alle 16 all'interno dell'Archivio di Stato la premiazione del concorso fotografico Volti del 46 promosso dall'Archivio insieme al Comitato Senonoraquando di Teramo. Da dove nasce questa iniziativa? Questa iniziativa conclude una serie di incontri tenuti nelle scuole teramane per sensibilizzare e approfondire la conoscenza del lungo percorso e difficoltoso percorso che le donne hanno compiuto per conquistare il diritto di voto. Il concorso, come ho detto, è stato realizzato anche con gli studenti di queste scuole, ragazzi dai 14 ai 24 anni e consiste nella presentazione di un elaborato comprendente sia una foto che un'intervista fatta a donne che hanno votato nel nostro territorio proprio in quell'anno. Domani sono stati selezionati naturalmente in collaborazione con l'Archivio di Stato i migliori lavori e domani avverrà la premiazione. Dottoressa D'Annunzio, accanto a questa premiazione i visitatori avranno l'opportunità di rimirare una mostra. Di che mostra si tratta? Questa mostra riguarda l'avvio alla ricostruzione post bellica e che è stata realizzata insieme ai ragazzi del liceo classico in occasione dell'alternanza scuola-lavoro. Quindi diciamo che questo percorso si concluderà appunto con questa mostra. L'occasione che ci è stata data dal comitato, se non ora quando, viene ben volentieri, arriva ben volentieri a noi perché abbiamo l'occasione di valorizzare i nostri documenti e le nostre iniziative e le nostre possibilità che abbiamo di arricchire il territorio con la conoscenza e con la cultura. Vediamo infatti nella mostra, che è composta da più sezioni, di un percorso molto mirato, cioè per l'avvio alla ricostruzione appunto abbiamo innanzitutto la ricostruzione sociale e politica con la votazione alle donne, dopo abbiamo il percorso dedicato, nelle altre sezioni appunto, dedicato alla ricostruzione delle strade, dei ponti, che purtroppo erano state distrutte a causa dei bombardamenti.